Musica Annabella, fra poco è il compleanno di Joseph e dobbiamo cominciare a pensare che tutto faremo per lui quest'anno Una palla di calcio? È una bellissima idea, poi non è semplice come sembra, lo sai Così ti insegno come si fa Speriamo vada tutto bene No, ovviamente con tuo aiuto vedrà bene Hai ragione Annabella, mi puoi prendere la pentola così cominciamo con la ricetta? Sì Ascolta, sciogliamo le cose qui e poi mi devi aiutare a preparare le teglie, ok? Mi puoi mettere tutto qui dentro 200 grammi di burro 150 grammi di cioccolato fondente Poi 400 grammi di zucchero E poi abbiamo bisogno un cup, 205 millilitri di latte Puoi prendere il latte per favore? Grazie Facciamo sopra l'impasto così se rovesce qualcosa vediamo se c'è Oh, preciso Ok Grazie Io metto questo a sciogliere Annabella Nel frattempo Si prepara la teglia Le teglie Lasciamo questo un attimo lì Ok, io ho già sciolto un po' di burro nella questa pentolina qui Dobbiamo usare questo pannello Vernisciare tutto Perché se non facciamo questo che succede? Se la torta si appiccica e arrivano dei buchi Di buchi Ok, io l'ho già tagliato questo così Mi può finire di tagliare questo Ti spiego come si fa Io l'ho fatto La sagoma del cecchio Così Pierato Adesso mi devo tagliare tutti questi pezzettini qui Così riusciamo A mettere questo dentro Vedi che usando il pennello Riusciamo a Vericolare la carta Ma me sto facendo Io preparo quest'altra teglia Appena è finita Ecco Vedi? Però questa torta deve rimanere un segreto Una sorpresa per tuo fratello Ok? Tu riesci a mantenere il segreto? Sì E sono brava a mantenere i segreti Ah sì? Adesso guarda che faccio Siccome io so che questo impasto Non andrà inoltre di questa teglia Le metto un po' di farina Ok Una è pronta Sì Finisce lì Io intanto controllo l'impasto Va bene Nabela? Va bene Non dimenticare di mettere anche un po' di farina Come l'ho messo io Sì Ok Quasi sciolto Sembra zuppa di cioccolato Una minestra di cioccolato Sarà buona? Sì Si mangia quella per la cena? Sì Se facciamo tutti i cibi a base di cioccolato Giuseppe li mangia di sicuro Tu fratello? Sì Allora Spegniamo Spostati a Nabela Perché questo è bollente Ok Mettiamo subito qui dentro Che bel rumore Quando viene rovesciato Bellissimo No ma che profumo Poi ho bisogno Qualcuno che mi rompa le uova Chi può essere quella qualcuna? Grazie Due uova Ok Però Prima io le metto Queste cose dentro Cacao 100 grammi La farina doppio zero 100 grammi E la farina con il lievito già dentro Un'altra 100 grammi Comincio io a mescolare Ok 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 Vedi che hai già preso la farina Ho bisogno di un secondo uova Viva Ecco L'impasto è pronto Ok Mettiamo qui dentro Poi dobbiamo mettere in forno Un forno a 160 gradi E questa misura Sarà circa Un'ora Dov'è la gestione da leccare? Allora Vedrai che qualcosa da leccare c'è Ok Dobbiamo dividere questo impasto A metà Più o meno Uno E due E queste che stavi cercando Ecco Mi porti tutti a lavare E io intanto metto queste in forno Ecco le nostre torte Annabella ti piace? Sì L'ho già tagliato un po' sopra Perché quando sono alzati al forno C'era un crosta E poi dobbiamo metterle insieme Vedere se abbiamo una palla Metti quelle sopra Vediamo com'è Secondo te andrà bene? Sì Sì Poi quando abbiamo coperto con i ganache Andrà meglio no? Cominciamo a mettere Il nostro ganache qui in mezzo Così sarà faccito dentro Vai Li fai te? Brava La prendi ancora Così c'è ancora per È molto duro il nostro ganache Però è bello questa densità Qui c'è un pezzettino di ganache Ah E che si fa con quel pezzettino di ganache? Oh Ma Dov'è andata? Oh Che sei la mia assaggiatrice Officiale? Poi anche con il nostro ganache Abbiamo creato comunque Un superficie abbastanza pari Liscio Ok Metti questo sopra Ok Vedi qui tutta questa crepe intorno Questo dobbiamo impire Con il nostro ganache Brava Prima cosa Fai tutto quel spazio Impi tutto quel spazio intorno Tutta la torta E poi si va a coprire Tutta la torta con il ganache Prima comunque Impiamo tutti i buchi Poi per una torta a forma di palle di calcio Ci vuole un impasto come questa mud cake Che è bella Denso Ok qui c'è un spazio molto grande Andiamo Chiunque ha questa fetta Sarà felicissimo Perché è piena di ganache Ok Guarda te se ha mancato un pezzo Questo aspetta Brava Adesso cominciamo in basso Vedi che faccio in basso E poi andiamo a tirarle sul nostro ganache Ecco Mi fai te un attimo Brava Poi gira Facciamo un po' Ok fammi un favore Copri tutto questo con il ganache E poi dopo io vado a lasciare per te È molto duro questo ganache Era meglio metterla nel microonde Wow Si può fare per un paio di secondi Però io ho paura che poi la metto per troppo tempo Poi sarà troppo liquido Poi dobbiamo riaspettare che si rifredda E anzi che mangiare si beve Ok adesso usiamo questo per tirare Sembra il pianeta cioccolato Ehm è vero Come si chiama questo pianeta? Ehm Cioccolatone Anzi che Plutone cioccolatone Puoi scoprire un nuovo pianeta nel Sistema solare Ok io qui adesso Vedi qua con le mie mani Che le mie mani sono un po' calde Così riesco a lisciare questo meglio Io vado a lavare le mie mani Li puoi finire te un po' a lisciarlo? Annabella ti insegno un trucco Sai ti metti acqua calda sulla tua spatola Vedi come diventa tutto bello liscio Così ti riesci a fare una finitura Ed è già bello Hai fatto un bel lavoro Ok Lavati le mani Annabella Ok Te la sai perché la tengo sempre la pasta di zucchero dentro una busta di plastica? Ehm perché altrimenti si secca ed è troppo difficile da lavorare Certo Poiché vieni Tutte le creppe odiose Sì Ok qui dentro c'ho zucchero a velo E un po' di mezzena Ok Lavori lì Sotto Pasticcera ce la farà E' importante che abbiamo un superficie liscio qui Però te la dico la verità Anche se c'è qualche piega Se riusciamo a sistemarla dopo Va bene perché poi vanno sopra le sagome Così queste non sono le vere Ma prendo lo smoother Yes Ok Questa c'è la faccio così Adesso togliamo il grosso qua E poi andiamo a lisciare di nuovo questo pezzo sotto Questo lo voglio togliere Ok vedi come un po' di mezzena a zucchero a velo lì Con il tuo mignolino vai qui sotto Ok Mano così Vieni qua Mano così Brava Ok fammi vedere Bellissimo brava Potere ai piccoli Come dice Scrapidù Adesso togliamo l'ultimo pezzo E poi siamo pronti per mettere le sagome Così adesso non sembra una palla di calcio Ma fra poco Siamo pronti? Dobbiamo preparare le sagoni e pentagoni Ok? Ok ora siamo pronti Ok grazie Annabella sei pronta per decorare la palla di calcio? Sì Ok abbiamo questa bellissima base Molto liscia Però è una bellissima base dove si può andare a lavorare e mettere le sagome Che cos'è questo? Quello è un pentagono Brava E questo? Esagono Esagono Allora abbiamo bisogno di tutti e due per realizzare la nostra palla Questo sarà il nostro nero Però ho usato una pasta di zucchero e cioccolato fondente E ho aggiunto un po' di colorante nero Ma non tanto Così dobbiamo stendere questo E tagliare circa 15 di questi E circa 25 del bianco Ok? Cominciamo con il scuro E poi ti spiego dopo come si mette tutto insieme per fare la sagoma Annabella mi puoi passare il matterello? Quella grande Grazie Prego Anzi forse questa è piccola meglio Vediamo Si fa Lo facciamo Grazie Grazie Grazie